oh senza rilanciare è di guida pulita si ora qui qui c'è tutto un disceso c'è da rilanciare vai è fai la guida a mille ore che puoi siamo? si o? vai ti pediniedi vai ti ripeto Leo oh no qui ci stanno lavorando ciao ciao vai pompala pompala guarda la...oh è buio aia guarda la...oh è buio aia addio ma lì c'è le trappole no ecc Non c'è quanto riguarda la cipi, rai a hilli mi docca farmi raule oh se tu fai forte è un chiacchiero neanche senti là, boiade si fa il sarto in mezzo all'arberi via, tanto io lo tinerò a fa' affinché non ci cadiedi è un po' a scala eh, questo sentiero finisce in salita tipo ora si è un po' a scala